È un vero e proprio colpo di scena quello che si è materializzato nelle ultime ore. È infatti spuntato fuori il ricorso in Cassazione presentato dalle gali di Alessandro Albertoni, uno dei due giovani di Castiglio in Fibocchi, condannati per la morte di Martina Rossi, la studentessa genovese precipitata dal sesto piano di un grande hotel di Palma di Mallorca all'alba del 3 agosto 2011 per sfuggire ad un tentativo di violenza sessuale secondo la sentenza dell'appello bis. L'impugnazione è stata presentata da Alessandro Albertoni attraverso i suoi legali presso il Tribunale di Perugia ma c'è voluto quasi un mese perché venisse trasmessa in corte d'appello a Firenze e in Cassazione. Il rischio adesso è che si allunghino i tempi del giudizio in Cassazione già fissato per il 22 luglio. Ovviamente tanta la rabbia da parte degli avvocati di parte civile per conto della famiglia di Martina Rossi. La prescrizione infatti scatterà a metà di ottobre.